Un importante intervento di riqualificazione del campo di via Gagliardotti, una struttura che ospita centinaia di ragazzi che giocano a calcio, verrà riqualificato con un nuovo campo in erba sintetica, i lavori partiranno nel prossimo autunno, circa verso il mese di ottobre con il via libera della Lega Nazionale di Lettanti. Un intervento importante che permetterà di intervenire, come abbiamo fatto, su altri campi sportivi come la Stanga e via Baracca che è attualmente in corso per ridare alle strutture elementi quindi di novità, di innovazione e di riqualificazione.